Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Maria De Filippi è tornata al lavoro nello studio di Amici dopo la morte del marito Maurizio Costanzo, il video è da brividi Sono passate poco più di due settimane dalla scomparsa improvvisa di Maurizio Costanzo. La morte del giornalista e conduttore televisivo ha sconvolto tutto il pubblico italiano, da anni abituato a considerarlo un punto riferimento ed un punto fermo Di lui si è parlato abbondantemente e si è anche ricordato l'importanza che ha avuto nel mondo della televisione e dello spettacolo in generale. Adesso l'attenzione è tutta rivolta a Maria De Filippi, la vedova di Costanzo L'amatissima conduttrice di Canale 5 ha chiaramente vissuto questo evento drammatico con grande dolore e per giorni si è parlato anche della possibilità che decidesse di lasciare il suo ruolo in tv Maurizio infatti non era solo il compagno di vita, ma era il suo mentore, il consigliere fidato e il primo fan della regina di Mediaset Ogni programma lanciato è stato prima visionato da lui e ogni volta che Maria voleva apportare un cambiamento o una miglioria era sempre a lui a cui si rivolgeva Per la prima volta nella sua ormai trentennale carriera, Maria dovrà affrontare il lavoro senza il suo principale supporto e sponsor Tuttavia l'addio alla tv non è una possibilità contemplata. Questo perché Maurizio non avrebbe voluto che lasciasse e perché le ha insegnato che bisogna andare avanti nonostante tutto, perché fermarsi significa abbandonare non solo il proprio lavoro, ma anche quel pubblico che è parte integrante e principale del successo Maria De Filippi, prima puntata di Amici dopo la morte del marito. Così Maria De Filippi, dopo essersi presa dei giorni per elaborare il lutto in forma privata, ha deciso di tornare a lavorare La conduttrice sa che il vuoto che ha dentro in questo momento non potrà essere colmato da nulla al mondo, ma che il lavoro e l'affetto del pubblico potrà aiutarla a sopportarlo più facilmente Il video del primo ingresso nello studio di Amici dopo la morte del marito è stato pubblicato sulla pagina Instagram Il Trash della TV In questo caso non si tratta di un post ironico, ma di un vero e proprio omaggio nei confronti di una donna che, piaccia o non piaccia, ha cambiato il volto della televisione nostrana Nelle brevi immagini vediamo Maria che entra in studio e viene accolta da una calorosa standing ovation Il pubblico in questo caso non ha avuto certo bisogno del segnale dello staff per alzarsi in piedi e applaudire la conduttrice Si è trattato di un gesto spontaneo, della voglia di comunicarle affetto e vicinanza in un momento così duro da affrontare Maria De Filippi è visibilmente commossa e con la voce rotta chiede ai presenti di sedersi e di permetterle di andare avanti Le parole che la conduttrice pronuncia sono toccanti e significative, io sinceramente comincerei a lavorare come mi è stato insegnato, dice prima che il gruppo in gola si faccia evidente nel dire, e inizierei da voi Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me Arrivederci, al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti